Andrea Risi, quattro edizioni di Forum Pulire che hanno presentato un ventaglio di argomenti, di tematiche sempre interessanti, attuali, alcune anche collaterali al settore. Che cosa manca? Partendo dalla prima edizione, seguendo la prima, la seconda, la terza e questa, è stato un continuo crescendo di tematiche, portate sempre più in alto, intendendo dire sempre più staccate in realtà da quella che apparentemente sono i temi che dovrebbero coinvolgere la filiera, quindi i produttori da una parte, i dealer dall'altra. Però, diciamo, il percorso è stato, gli obiettivi del percorso sono stati raggiunti, perché questa edizione è la migliore in assoluto e ha permesso di fare delle riflessioni in ogni sessione, riflessioni che hanno dato contenuto, per esempio, mi riferisco all'intervento del professor Ricciardi, del Ministero della Salute, direttore generale del Ministero della Salute, che ha affermato, pensiero che lui afferma già da qualche tempo, che le attività di natura igienica sono il core business della sanità. Ora, è ovvio che l'ha dimostrato sia da un punto di vista scientifico che anche da un punto di vista economico, indicando quali sono i costi nascosti della non igiene, parlando di 20, 18, 15 mila euro a ricovero per pazienti che hanno infezioni ospedaliere. Interessantissimo anche questo ultimo intervento che si riferiva ai gesti, quando si è evidenziato che l'attività artigiana ha una valenza in funzione ai gesti. Questo vale assolutamente per le pulizie, perché le pulizie sono la somma di centinaia di gesti che un operatore deve fare. E quindi questo è un altro valore. Quindi parlando di bellezza, parlando di temi che appaiono al di sopra della vita di tutti i giorni di chi fa igiene o fa pulizia, si trovano gli spunti per dare contenuto a questo tipo di attività. Forum Pulire si era proposto di sensibilizzare maggiormente l'utenza, le istituzioni, in ambito proprio del settore della pulizia professionale, nello stesso tempo di rendere più consapevoli sia gli operatori che i cittadini di quanto sia importante questo settore. Secondo lei ci sta riuscendo? Con gli operatori sicuramente. Qui in sala ci sono produttori, ci sono dealer, ci sono imprese di servizi, una rappresentanza dei cittadini, c'è cittadinanza attiva e qui certo ci sta riuscendo, sicuramente ci sta riuscendo. Ed è una consapevolezza che deve diffondersi maggiormente. Questo purtroppo non sta soltanto ad Afina o a Forum Pulire, ma dovrebbe coinvolgere il sistema dei media. E questo è l'altra vera frontiera da sfondare, perché per adesso tutto questo avviene all'interno del nostro sistema. E quindi questo potrebbe essere l'obiettivo futuro, cioè di rappresentare questo a chi veramente decide. Che poi non pensiamo alla politica, perché in realtà chi decide in questo momento l'andamento nel pubblico sono le centrali d'acquisto, sono i decisori pubblici. Quindi questa potrebbe essere la frontiera del futuro.